Le 5 lauree più facili da ottenere Quinto posto per Psicologia, dove il 45% degli iscritti iniziali arriva alla laurea Quarto posto per Beni Culturali, dove più della metà al 52% arriva alla laurea Al terzo posto abbiamo Scienze della Comunicazione, con un tasso di laureandi del 56% Al secondo posto troviamo la Facoltà di Design, in cui degli iscritti iniziali arriva alla laurea al 58% E tu che facoltà stai frequentando? Fammelo sapere con un commento E se ti piace questa serie di video, seguimi È il primo posto della facoltà più facile d'Italia, in cui il 63% degli iscritti iniziali arriva alla laurea E Scienze Ambientali